Ciao sono Coco. Mamma desu. Ciao. Oggi abbiamo fatto Makizushi a casa. Abbiamo fatto due tipi. Uno è pesce cotto. Poi oggi è con sashimi. Prego. Gobo. Cettoriolo. Sarmone. Di solito altro tipo di pesce, però oggi questo. Siitake secco sotto acqua da 5 ore. Carota. Uovo. Tofu secco. Kampio. Anche senza va bene. Nori. Poi riso giapponese. E kombu. Aceto di riso. Zucchero. To 3分 no 1. Sale. Aceto, zucchero e sale. Ok. Cosas. O come arraima. Radia morizzo. Arrappato mìto lo ha oieckini a li ma. Cosa bana ni a li ma. Questa acqua è nutricione, quindi dariamo pianti Sussi messi Sussi messi Sì, non è ne Ok 5 Cobu Cobu Alga Combu Per fare Brodon Suihanchi Rice Cooker Alga Combu Diventato così grosso 48 minuti Combu Si Si E' tutto, zuccherò, sale Questa merita, si è che lo spiega Cosa c'è? 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 Sì, spettacolo. Sì. 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 Il riso è pronto. Sì. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì Ciao Carota, shiitake secco. Questa acqua di shiitake. Shiitake secco può usare per fare Questa è buro don. Nienzin, carota, kampio, bolo di shiitake secco. Faisi easily. Biss il polvere. Sake. Sake tane. Mirin. Mirin. Salsa di soya. Ok, loutes, l'ult Ми. Cibuta Mietta Pronto, campion Govoo, carota Benzin Non ancora Pronto Govoo Govoo, carota Aggiungere Sato Ancora Un cucchiaio Funghi dolce Siitake Cotto Con Più zucchero Sato 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 Frittata Japonesa Piense Piense Latte di soya 2杯 2杯 Doe Musica I Ai Dudel Sato Di E' un po' di riparne. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è molto finito Oh, wow! D'accordo? Sì. 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 Di solito usiamo un altro tipo di peggio. Abbiamo un piccolo forno per pensieri. Salimoni. Adesso pranzo. Da mattina abbiamo lavorato tanto per preparazione di sushi. Guarda. Karota e gobo. Shiitake. Kampio. Frittata giapponese. Tamagoyaki. Koya tofu. Tetorioro. Salmone. Pesce. Corgiace pesce. Cotto. Già. Dopo il pranzo cominciamo a farlo. Luri. Con l'acqua. Con l'acqua. Questo è acqua e l'aceto. Cotto. Sì E' importante per mettere il riso bene così. Kampio. Siitake. Siitake. Niinjin. Carota. Govoo. Govoo. Tofu. Goya tofu. Frittata. Uovo. Flitata. Piense. Quigli. Cetotoro. Cosa. 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 Questa è una buona, non? Sì, questa è la buona Ho! Ho! Ho questa buona! Questa è la buona Sassimi di Hamachi, Maki Sushi di Hamachi, e e Veldure Cotto Siitake Tofu 高野豆腐 Kampio 高野豆腐 高野豆腐 Govò Govò Nincin Nincin Carota Siitake Siitake Seki Siitake Govò frittata japonese 卵 Siitake 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 Elba japonese Basilica japonese What's that? It's good It's good It's good Thank you Sashimi Sì, è stato fatto? Sì, è stato fatto? Sì, è stato fatto! È bello! È bello! È bello! È bello! È bello! È bello! È bello, mamma! Questa parte è più buona! Questa è buona! È bello! Deve pulire ogni volta! Sì, è bello! Sì, è bello! Sì, è bello! È bello! È bello! È vero! Sì, è bello! Sì, è bello! È bello! È bello! È bello! Itadakimasu Oishii Sono tanti gusti insieme, questa parte è più brutta però più buona. Sì, è molto buona, sentiamo molto l'erba giapponese, il sisò, ma abbiamo lavorato tantissimo per preparazione, quindi di solito non facciamo a casa, compriamo. Sì, sono l'olico, ma anche la panza, la panza è molto buona. Sì, l'olico è molto buona. Sì, l'olico è molto buona. Sì, questo è il proprio stagione. Sì, è molto buono. Sì, questo è molto buono. al prossimo video ciao ciao